come dire, con lei che in qualche modo questo convegno ha pensato e ha voluto fortemente e poi insieme abbiamo realizzato. A te Francesca. Grazie, permettetemi innanzitutto di ringraziare ovviamente le relatrici che sono qui presenti e un grande ringraziamento va anche a Rosario Brescia che devo dire sempre molto attento a qualsiasi tematica e quindi non possiamo che ringraziare questo prezioso elemento che abbiamo qui nella comunità santagatese anche perché come ben sapete da poco faccio parte anch'io di questa comunità, con molto piacere ovviamente perché vedo che siete molto calorosi, devo dire, come i miei compesari, quindi mi sono sentita subito a casa. Per quanto mi riguarda, essendo un avvocato, ho deciso di trattare un argomento che è di particolare importanza ma molto spesso trascurato e quello che concerne la parità dell'uomo e della donna in tutti i campi. Fino a poco tempo fa infatti la donna non veniva vista come perlo fondamentale nell'ambito proprio della società e quindi veniva considerata sempre ed esclusivamente come casalinga oppure esclusivamente come mamma. Successivamente, grazie anche all'emancipazione della donna, in effetti il ruolo della donna è venuto sempre di più ad affermarsi nella società e quindi si è finalmente conosciuto il valore della donna a 360 gradi. Questo discorso in un primo momento era stato trascurato anche dal nostro legislatore che in realtà non ha mai affrontato con molto approfondimento quella che era la questione relativa alla tutela della donna. In un primo momento si era pensato, seppur timidamente, di considerare la parità di sesso esclusivamente nella carta costituzionale quindi risale ovviamente nel 1947. Successivamente, grazie anche alla volontà della donna e le capacità della donna nel mondo del lavoro, si è voluto affermare anche il diritto fondamentale della donna in qualità di lavoratrice quindi lavoratrice non solo a casa ma lavoratrice anche nel mondo esterno. Ed è così che il legislatore ha voluto intervenire con una normativa già nel 1977. Successivamente, grazie anche all'emancipazione della donna e quindi al ruolo sempre più fondamentale della stessa all'interno della società, il legislatore ha voluto dedicare attenzione anche a quella che era la disciplina regolamentare della stessa. E così nel 2006, precisamente con il decreto legislativo 198, è stato istituito il cosetto codice delle varie opportunità tra uomo e donna. Questo detto codice perché ha cercato di raggruppare tutta la normativa vigente in materia e così si è cercato di articolare questo testo legislativo in varie voci, in modo da dedicare attenzione a quelli che sono tutti i settori che riguardano il mondo anche donna, quindi non solo uomo. Ed è così che il codice viene articolato in quattro libri. Il primo riguarda tutta l'attività di promozione di quelle che sono le relazioni di parità uomo e donna. Il secondo invece ha voluto dare un'attenzione particolare sempre alla parità uomo-donna nell'ambito dei rapporti etico-sociali. Il terzo invece riguarda il rapporto parità donna-uomo nell'ambito dei rapporti della politica e il quarto nell'ambito del rapporto economico. Per quanto riguarda la promozione, ecco che il decreto legislativo, quindi il cosiddetto codice delle varie opportunità in maniera più semplice che rimane più impressa a tutti, ha come finalità quella di rimuovere tutti quegli ostacoli e quindi tutte quelle forme di discriminazione che di fatto tendono a limitare quell'uguaglianza della donna agli uomini. Certo è un'impresa molto ardua, forse oggi ancora meno rispetto a prima, anche perché la donna ha saputo affermarsi in vari settori, però è un'attenzione che si è data data alla donna e quindi questo è già un grande significato, un grande segnale che è stato dato dal legislatore alla donna e quindi anche a tutto l'universo femminile. Per quanto riguarda la discriminazione, in effetti si è voluto considerare questo termine nell'accezione più ampia e quindi si è voluto distinguere due forme di discriminazione, quella diretta e quella indiretta. La discriminazione diretta è quella che forse viviamo noi anche quotidianamente, ahimè ancora purtroppo in determinati contesti, quando ci sono determinati comportamenti che vengono assunti in maniera diversa a seconda del sesso, quindi si tende a favorire un sesso rispetto ad un altro, molto spesso nel campo del lavoro diciamo che si tende a favorire il sesso maschile piuttosto che femminile. Poi c'è la forma invece di discriminazione indiretta che molto spesso è quella che forse danneggia un po' tutti noi perché riguarda la normativa, ci sono determinati usi determinate norme che tendono invece a rendere meno vantaggiosa la posizione della donna. Quindi quello che non bisogna mai dimenticare è che la parità tra uomo e donna è un diritto fondamentale che tra l'altro viene ormai riconosciuto universalmente. Importantissimo è l'apparato che lo stesso legislatore si è preoccupato di istituire proprio a tutela delle donne e quindi in un primo momento si è cercato di istituire il cosiddetto comitato per le pari opportunità. Certamente avete sentito parlare dei vari ministri, il ministro delle pari opportunità, i vari interventi che sono stati fatti, quindi in maniera positiva o in maniera negativa, comunque è sempre una presenza importante. Diciamo che questa promozione per la rimozione degli ostacoli viene sempre coadiuvata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Ovviamente di particolare il rilievo e l'attività che viene posta in essere dal Ministro delle pari opportunità che viene coadiuvata sia dal Vicepresidente che dal Secretario nell'attività, un'attività che devo dire davvero molto impegnativa e che comunque sta portando dei risultati. Quello anche molto importante da rilevare è che questa commissione tende a riunirsi molto spesso, è composta da 25 membri, dura in carica almeno due anni e offre argomenti di particolare rilievo, quindi cerca di sviluppare argomenti che riguardano diversi contesti, tutti tranne che quello del lavoro, perché per il lavoro il legislatore ha istituito un'apposita commissione, una commissione nazionale per la promozione delle azioni positive dell'uguaglianza tra le lavoratrici e i lavoratori. Quindi la donna non viene vista più solo come mamma, viene vista in qualità di lavoratrice e quindi in questo si è cercato di istituire un organismo di 40 membri, di cui solo 16 non hanno il diritto al voto e quindi si cerca di promuovere l'uguaglianza di fatto anche sul lavoro delle parità uomo-donna. Importante inoltre è stata istituita anche la cosetta figura del consigliere o dei consiglieri di parità che forse non tutti conoscono, ma che in realtà sono presenti anche sul nostro territorio. Io in effetti affoggio e mi sono occupata di questo, infatti ho preso parte anche di diversi interventi di questo e abbiamo affrontato degli sviluppi che riguardano il nostro contesto, quindi molto spesso queste figure vengono viste molto lontane, ma sono figure che ci riguardano e quindi oltre a consigliere a livello nazionale c'è anche il consigliere a livello regionale e provinciale, quindi affoggia. Qualsiasi forma di discriminazione deve, ripeto, deve essere denunciata a questi organismi che a loro volta si faranno portavoce a livello nazionale e quindi solo in questo modo il legislatore capirà l'importanza e la necessità di tutelare la donna. Oltre a questo vengono istituite anche delle commissioni distruttorie, ci sono sempre delle commissioni composte da una serie di membri che hanno come scopo quello di istruire tutte le pratiche e quindi ovviamente di valutare nello specifico quelli che sono i casi più concreti e molto spesso sono anche molto gravi. Non bisogna anche trascurare il fatto che il legislatore, sempre nel campo lavorativo, ha previsto la figura della donna quale imprenditore, quindi la donna si deve rendere anche partecipe e quindi di propria iniziativa e di attività e devo dire che anche ultimamente nel Sud la figura dell'imprenditoria femminile si sta affermando anche grazie all'istituzione di alcuni fondi che sono stati appositamente previsti dal nostro legislatore per incentivare queste forme economiche importantissime di sviluppo. Quello che mi preme anche sottolineare è che molto spesso non si conosce neanche l'inter che dovrebbe essere seguito dal punto di vista giudiziario qualora si verificano dei posti di discriminazione. Bisogna ricordare, e questo è importante, che qualsiasi forma di discriminazione va necessariamente denunciata. Questa va denunciata all'autorità giudiziaria. Ovviamente bisogna distinguere a seconda se si tratta di un privato oppure di una pubblica amministrazione. Se l'atto discriminatorio viene posto in essere da un privato, per esempio da un datore di lavoro, ecco che bisogna rivolgersi in questo caso al giudice del lavoro che si trova territorialmente competente dove si è verificato il caso. Quindi per esempio nella nostra provincia, Candela, Sant'Agata, il nostro giudice in funzione del lavoro è quello di Foggia. Qualora invece questi atti discriminatori vengono posti in essere da un ente pubblico, in questo caso bisognerà rivolgersi al TAR, il Consetto Tribunale Amministrativo Regionale. Importante è l'iter che va seguito. Appena si verifica l'atto discriminatorio e allora viene depositato il ricorso presso la Cancelleria del Tribunale competente territorialmente. Entro due giorni dalla data del deposito il magistrato è tenuto necessariamente a convocare le parti. Quindi le parti devono essere sentite e ovviamente qualora il giudice del lavoro profili qualche violazione del proprio, e qui dice una discriminazione, a questo punto emanerà un decreto. Un decreto che ha un suo valore, comporta una serie di sanzioni. In primo luogo si avrà il diritto al cosiddetto risarcimento del danno patrimoniale e, solo qualora espressamente richiesto, anche il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale. Altra questione importante è quella che consiste nella rimozione immediata di quello che è stato l'atto discriminatorio che ha originato il ricorso al Tribunale. Per quanto riguarda invece la controparte, questa potrà proporre opposizione. L'opposizione va proposta nei 15 giorni successivi e in questa volta il giudice si dovrà pronunciare non più con decreto, ma con un'altra forma di provvedimento, la cosiddetta sentenza che è immediatamente esecutiva. In questo provvedimento, ultimo provvedimento, addirittura il giudice potrà decidere di sospendere e nei casi addirittura più grave, addirittura eliminare tutti quei benefici di cui il datore di lavoro ha soffruito per poter assumere le donne all'interno del posto del lavoro. Quindi questi sono aspetti che molto spesso non sono conosciuti, però la mia esperienza professionale mi insegna che negli ultimi tempi comunque sono azioni molto presenti anche al Tribunale di Foggia, ne ho promosse anche io diverse e devo dire che abbiamo conseguito degli ottimi risultati. Ho provveduto anche a segnalare il tutto alle consigliere a livello nazionale, così anche noi inizieremo a fare statistica e quindi inizieremo in realtà a parlare del nostro territorio e di quelle che sono le esigenze del territorio. Per quanto riguarda invece, oltre all'aspetto della promozione, quello che riguarda la parità tra uomo e dono si verifica anche giornalmente nelle nostre case, i rapporti tra i coniugi oppure i rapporti con le persone esterne. Per i rapporti con i codici ha provveduto già il legislatore con la normativa del codice civile, pertanto ha previsto una parità tra uomo e donna, sia la moglie che i mariti, finalizzati proprio a tutelare la donna. Dal punto di vista esterno ovviamente potrebbero esserci anche degli atti persecutori, la cosetta legge sullo stalking che tutti avremmo riconosciuto, ovviamente questo termine inglese molto spesso non viene assimilato, però sono dei veri e propri atti persecutori che il legislatore, attesa alla gravità, ha deciso addirittura di renderli proprio dal punto di vista penale, quindi hanno la loro valenza penale. Importante inoltre nell'ambito del settore è quello che riguarda anche l'imprenditoria femminile. L'imprenditoria femminile, come dicevo Pocanzi, è stato oggetto di attenzione anche da parte del legislatore ed è stato istituito un apposito fondo. Questo fondo tende a contribuire allo sviluppo e quindi alla promozione di tutte quelle che sono le attività che potrebbero essere intraprese dalla donna. Ed è questo anche uno strumento importante di crescita del Paese perché una donna valendosi di questi strumenti contribuisce senz'altro ad arricchire quello che è il sistema nazionale, quindi il reddito proprio nazionale. Ovviamente da regione a regione c'è una propria legislazione, quindi anche per attingere determinati fondi bisogna vedere la regolamentazione, però posso dire che in realtà si possono trovare una serie di scappatoi che in realtà possono favorire quelle che è l'inizio di un'imprenditoria femminile e quindi partecipare anche in questo modo a quella che è proprio l'economia a livello nazionale. Per quanto riguarda l'aspetto del lavoro, io non mi voglio soffermare perché c'è qui la dottoressa Costantino che potrà senz'altro portarci quella che è la realtà del nostro Paese, perché ovviamente anche dal punto di vista sindacale e quindi potrà rappresentarci tutte le sfere. Per questo io non voglio ulteriormente trattenermi e voglio dare subito spazio alle altre colleghe che sono qui intervenute. Comunque io vi ringrazio tutti perché veramente per la presenza di stasera avremo modo senz'altro di conoscerci visto che io farò parte di questa comunità e quindi passo la parola adesso alla dottoressa Costantino. Grazie. Allora dopo l'interessantissimo intervento della dottoressa Gabriella Cicironi la ginecologa che ci ha dovuto lasciare per altri impegni e dopo l'altro interessantissimo intervento dell'avvocato della dottoressa Francesca Marese su quella che è la condizione della donna e di quella che è la parità o la presunta parità che in qualche modo questo escursus che ci ha fatto sulla parità uomo-donna e che ripeto è senz'altro di enorme importanza. Io vengo dagli anni 60 insomma figuratevi ricordo ancora gli anni 60, fine anni 60-70 c'era addirittura ancora il delitto d'onore per cui l'uomo poteva volendo ammazzare una donna e poi giustificarsi con il fatto che dicevo fatto per onore insomma. Quindi voglio dire di passi ne abbiamo fatti e sicuramente ne faremo altri mi auguro. Bene, dopo la dottoressa Marese, anzi apro giusto una parentesi già che appena finito ho terminato il suo intervento per dirvi che nel caso la dottoressa Marese come giustamente diceva fa parte della nostra comunità, vive qui a Sant'Agata di Puglia, è una nostra concittadina per cui laddove ci dovesse essere necessità, un consiglio, qualcosa, è una nostra amica, una persona come dire anzi molto impegnata proprio anche nel sociale e come dicevamo prima questa iniziativa di questa sera non è altra che non sarà sicuramente l'unica, è la prima di una lunga serie che andremo a proporre anche in un prossimo futuro. Anche a lei così come abbiamo fatto per la dottoressa Cicirone auguriamo veramente tanti tanti auguri per la futura nascita e a questo punto un applauso che sia doveroso anche per lui. Bene, passo senz'altro la parola alla dottoressa Carla Costantino che è segretaria territoriale CIS di Foggia e che come giustamente già ha anticipato l'avvocato Marese sicuramente parlerà di quelle che sono le problematiche legate al ruolo della donna immagini in quanto lavoratrice, suppongo. Prego. Allora, buonasera a tutti. Intanto volevo fare un piccolissimo appunto, non è un appunto di rimprovero al nostro bravissimo moderatore perché mi ha presentato come segretaria territoriale della CIS, io litigo con i miei colleghi perché non voglio che mi si chiami segretaria, ma bensì segretario perché il ruolo è un ruolo al maschile perché il segretario della confederazione è un ruolo maschile e segretaria che per troppi anni è stato un ruolo magari anche un po' sottovalutato o legato alla figura femminile, preferisco che questo non accada almeno nell'esercizio delle mie funzioni. Non era solo una battuta perché con i miei colleghi quotidianamente vi garantisco che non è semplice lavorare in una squadra dove come le organizzazioni sindacali che per lunghi anni e per lungo tempo hanno visto una presenza femminile veramente molto, molto, come dire, molto carente. Quindi era giusto per stemperare un attimo, io vi devo ringraziare per questa opportunità e soprattutto perché anche i giorni sono particolari a ridosso delle feste magari tutti siamo impegnati in famiglia o per altre questioni, però credo che questo sia un argomento che è veramente sempre di molta attualità perché non si finisce mai di parlare di donne, non si finisce mai di parlare di questa integrazione che oggi più che mai è un elemento che viene richiesto necessariamente per tutto quello che è la connotazione della nostra vita. Quindi vi ringrazio e devo fare i complimenti sia al tavolo delle relatrici sia al moderatore perché vi garantisco, ho avuto l'opportunità e ho l'opportunità quotidianamente di frequentare anche livelli provinciali, ma vi posso rassicurare che stasera il livello del convegno ha veramente dei toni molto, molto interessanti e molto, molto alti. Noi viviamo un periodo particolarmente difficile, non è nuovo a nessuno, sappiamo bene che stiamo soffrendo questa grande instabilità finanziaria che chiaramente ha portato, come dire, al nostro paese una marea di problemi. Ha messo a rischio gli investimenti, ci ha fatto aumentare il debito pubblico, in questi giorni state sentendo parlare e anche sparlare di questa famosa manovra finanziaria, moltissimi l'hanno definita lacrime sangue ed è una manovra veramente per le quali noi stiamo mettendo in campo delle grandi iniziative, delle grandi mobilitazioni come organizzazione sindacale, quindi anche il nostro territorio è coinvolto in queste iniziative perché noi riteniamo che questa manovra non sia una manovra equa. Sapevamo benissimo che doveva essere una manovra di rigore, ma accanto al rigore noi volevamo la equità, che non riusciamo molto a intravedere perché come al solito va a finire che a pagare sono sempre i soliti noti, sono sempre quelli che hanno le ritenute alla fonte e anziché invece accentuare discorsi di controllo all'evasione, discorsi di tassazione sui grandi patrimoni, ci siamo ritrovati come sempre ad appenalizzare i dipendenti e i pensionati, quindi noi come organizzazione in questi giorni siamo impegnati in questo senso perché chiederemo al governo immediatamente l'attivazione di un tavolo di concertazione che dovrà rivedere con noi, con le parti sociali questi importanti temi perché il nostro neopresidente non si può giustificare dicendo che non c'è stato tempo per la consultazione quando invece solo per decidere i sottosegretari sono andati via nove giorni e invece la riforma che toccava le pensioni di persone che hanno magari oggi maturato il requisito per andare in pensione e con la riforma si dovranno ritrovare ad aspettare cinque anni amici miei, non un mese, due, tre, ma cinque anni, lì non c'è stata questa fretta eccessiva di arrivare a definizione. Tornando al tema del convegno, io infatti ho preso qualche appunto perché voglio evitare voi di incorrere in quel difetto sindacale di lasciarmi prendere dalla parola e non smetterla più perché vorrei essere anche diciamo abbastanza sintetica. Nel nostro paese l'accesso delle donne nel mondo del lavoro sinceramente è al di sotto di qualsiasi media europea proprio perché è fermo al 46% e soprattutto al sud nel meridione addirittura arriviamo al 35%. Quindi questo dato ci preoccupa perché innanzitutto è una creazione di pilli in meno, lo sappiamo benissimo, poi a questo si aggiunge il fatto che questa situazione ha delle influenze sia per la povertà proprio delle famiglie sia perché non aiuta la famiglia che oggi è diventata come dire un ammortizzatore sociale di tutte le inefficienze anche delle pubbliche amministrazioni nella concessione dei servizi alla società civile. Quindi noi promuovere l'occupazione femminile è una priorità che non è il solito discorso di donne ma è invece una ragione di parità e di pari opportunità perché una famiglia con due redditi, sapete benissimo, reagisce meglio a quella che ha una capacità di spese e di risparmio sicuramente superiore e quindi i rischi che derivano dall'instabilità del lavoro che oggi c'è e soprattutto in provincia di Foggia nella nostra capitanata quindi questo è un modo per reagire in maniera sicuramente più positiva. L'Avvocato Marrese parlava della carta costituzionale e già dalla Costituzione che noi abbiamo questo impegno a creare le condizioni di equità, di uguaglianza e di diritti uguali per uomini e donne e poi la lavoratrice dovrebbe avere gli stessi diritti ma sappiamo bene che nella realtà non è così le retribuzioni delle donne sono sempre molto, se non proprio molto, ma sono spesso inferiore a quelle degli uomini nei vari contesti e quindi questo convegno credo sia un'occasione anche per socializzare questi dati di conoscenza. Si deve lavorare con un unico obiettivo, quello di alzare il livello dell'occupazione femminile perché queste non sono solo delle dichiarazioni di belle parole che sono di parole di solidarietà, ma rappresentano proprio impegni certi e veritieri su sviluppo e crescita dell'intera comunità. Queste, dicevo prima, non raccontano la solita questione di donne perché il futuro del nostro Paese passa attraverso questa grande mobilitazione, quindi noi dobbiamo fare innanzitutto il punto della situazione partendo dai nostri dati territoriali, aiutare a capire quali sono le dinamiche presenti nel rapporto donna-lavoro e poi contribuire a diffondere delle pratiche che sono positive in un'organizzazione di lavoro che, consentitemi, dovrebbe tener conto delle specificità e delle esigenze che una donna ha nel mondo del lavoro e nell'espletare la sua professionalità. Chiaro che non è nuovo a nessuno che siamo lontanissimi dagli obiettivi di Lisbona, noi dovevamo raggiungere nel 2010 il limite del 60% di occupazione femminile. Bene, non l'abbiamo raggiunto, nel nord Italia la situazione è meno infelice che nel sud, però noi siamo lontani da quei parametri perché noi siamo praticamente a 46% in Italia per non parlare poi di quella famosa forbice nord e sud dove siamo fermi al 34%. Oddio, questi dati molte volte sono anche un po' falsati perché noi oltre al problema dell'occupazione femminile abbiamo il problema del lavoro nero, abbiamo il problema dei rapporti di lavoro non regolari, abbiamo il problema del falso utilizzo del lavoro diverso, delle nuove tipologie contrattuali perché la flessibilità del lavoro non è quella il male, il male è quando la flessibilità si trasforma in precariato e questo garantito nel nostro territorio succede molto, ecco perché noi come organizzazioni sindacali abbiamo anche la necessità e l'obbligo di vigilare affinché le aziende abbiano l'amore per la legalità, per il rispetto delle regole. ecco perché l'occupazione femminile diventa la chiave fondamentale per il rilancio della competitività. Noi pensiamo che, come CIS soprattutto, che occorre ogni tanto richiamare questa nostra classe politica che molte volte è distratta da futili motivi, molte volte è attenta a preoccuparsi di discussioni che non hanno a cuore le sorti del Paese, non hanno a cuore lo sviluppo della capitanata. Noi alcuni problemi veramente, e questa è una parentesi proprio che apro e chiudo in 30 secondi, lamentavamo qualche giorno fa con i nostri colleghi la scarsa attenzione che noi abbiamo nella nostra classe politica riguardo ai temi della sanità. I temi della sanità, il diritto alla salute è una questione di vitale importanza, l'abbiamo sentito prima anche sotto l'aspetto della prevenzione, ma riguardo all'aspetto della garanzia che il cittadino dovrebbe avere, noi parliamo oggi solo di chiusure di ospedali, non parliamo di altro, non parliamo invece di riconversione di queste strutture, non parliamo di servizi territoriali per l'utenza, di conseguenza abbiamo una situazione a livello di sanità che oggi veramente comincia a preoccuparci. Allora, per essere un po' più sintetica, perché poi mi rendo conto che comincio ad andare un po' troppo oltre, quindi dobbiamo per aiutare questo discorso della emancipazione femminile superare il pregiudizio delle imprese verso la maternità, perché voi, non so se sapete, ma molto spesso succede che quando una donna viene assunta, si fa direttamente firmare un foglio in bianco che rappresenterà il foglio delle dimissioni volontarie nel caso poi la donna dovesse avere la fortuna, come le mie colleghe qui sedute al tavolo con me, di avere una maternità. E questo io credo che in una società civile come la nostra sia quanto di più abberrante possa ancora capitare. noi dobbiamo creare un nuovo equilibrio tra donne e uomini, tra famiglia e lavoro, tra spazio privato e spazio pubblico, tra doveri e responsabilità e non per ultimo anche tra carriera e meritocrazia, perché a prescindere dal sesso della persona noi dobbiamo puntare al discorso della meritocrazia. Dobbiamo quindi invertire questa rotta, dobbiamo cercare di fare anche quel salto culturale e quindi dobbiamo incentivare le politiche attive per il lavoro a partire dalla formazione e poi le politiche a sostegno della famiglia. Utilissima Francesca sono le norme relative alla contrattazione di secondo livello che rappresentano quel trade union tra le esigenze delle aziende territoriali e le esigenze delle lavoratrici e noi spingiamo su questa leva affinché sia la contrattazione di secondo livello e quindi attraverso anche che gli enti bilaterali possano poi dare sostegno a questo nostro obiettivo. Serve quindi una strategia forte per l'occupazione e la qualità del lavoro che consenta quindi anche l'affermazione delle donne nei luoghi dove si prendono le decisioni, dove devono riuscire a sfondare quel famoso tetto di cristallo che è invisibile ma c'è, è invisibile, non lo vediamo ma per arrivare ai posti dove si comanda vi garantisco che ci sono enormi difficoltà. Ecco perché dobbiamo fare questo cambio di passo ed è una sfida che riguarda tutta la società, uomini e donne, non soltanto le donne e deve essere anche questo cambiamento stimolato da campagne di comunicazione, lo stanno facendo molti paesi europei perché noi dobbiamo badare alle donne ma all'innovazione e alla crescita, ecco perché i servizi socioeducativi devono essere potenziati, i tempi di vita e di lavoro, le politiche di conciliazione, lo diceva bene anche Francesca prima, ecco perché la battaglia per l'aumento dell'occupazione femminile amici miei ce la giochiamo soprattutto nel mezzogiorno, nel meridione e quindi, e mi avvio alle conclusioni perché credo già di avermi impegnato troppo, di aver chiesto a voi già troppa pazienza, la prima cosa da capire è quella se noi veramente vogliamo che l'occupazione femminile diventi insieme alla produttività e alle retribuzioni il terzo elemento fondamentale per mettere in campo le strategie di sviluppo sia nazionale che regionale ma anche territoriale. abbiamo cominciato a fare dei piccoli passi, il piano straordinario per il lavoro regionale il patto per il lavoro provinciale che deve essere comunque ancora riempito di contenuti il piano per il sud ma dobbiamo utilizzare bene queste risorse perché oggi visto che siamo in una situazione di crisi assolutamente non possiamo permetterci di disperdere nessuna risorsa. Ecco perché non ci basta poi ricordare l'8 marzo perché l'8 marzo non è non è una data da ricordare come enunciazioni plateali di una ricorrenza che poi ricorrenza non è e non sto qui a ricordarvi sicuramente sapete tutti a che cosa è ripetita la festa dell'8 marzo ma noi vogliamo ogni momento tutto l'anno il rispetto, la dignità e quei valori che vengono sventolati sui tavoli delle istituzioni vogliamo invece che diventano una componente essenziale di quello che è il costrutto della nostra società vogliamo non la festa ma il ruolo della donna sempre in ogni momento e della nostra vita quotidiana è vero che qualcosa sta cambiando ma da parte nostra dobbiamo fare uno sforzo in più dobbiamo rompere queste vecchie abitudini legate anche a vecchi schemi ruoli maschili ruoli femminili prima si parlava della parità tra le famiglie tra le coppie una finta parità dico io perché purtroppo ci sono ancora questioni che non riusciamo ancora a superare però la strada è lunga ma noi dobbiamo avere anche la capacità di avere di guardare con ottimismo al futuro e con quella forza che ci viene anche nel dire quello che noi vogliamo quello che vogliamo fare dobbiamo avere una società che deve rappresentare la donna nelle sue specificità nelle sue differenze ma non in modo antagonista all'uomo assolutamente no in un modo semplicemente e banalmente paritario c'è molto da fare è vero e anche questa volta però l'invito a voi tutti ma lo dico prima me stessa anche nel ruolo che ricopro è quello di essere attori della crescita di questo territorio in una società che dobbiamo cercare di costruire anche più a misura di donna e quindi anche un po' più umana perché unicamente se noi in prima persona sappiamo essere noi stessi portavoce di valori portavoce di valori di rispetto di dignità di apertura ma anche di tolleranza solo in questo caso noi potremo sperare di raggiungere questi obiettivi e lasciatemi chiudere proprio con una frase di Papa Giovanni Paolo II che mi piace molto lui enunciava questa frase io la faccio mia quando parlo di questa questione di questa differenza tra uomini e donne è necessario diceva Papa Giovanni Paolo II cercare il giusto equilibrio tra il rispetto della propria identità e il riconoscimento di quella altrui. Grazie Grazie di cuore anche alla dottoressa Carla Costadino non avevamo dubbi sulla profondità e su quello che sicuramente era la consistenza sarebbe stato il valore e la consistenza del suo intervento e ne abbiamo avuto sicuramente prova quindi la ringrazio di cuore e anche a lei voglio lasciare questa volta aperta, questo invito a un'eventuale prossima, una futura iniziativa qua a Sant'Agata sono certo che farà piacere a tutti quanti di averla anche se certamente, certamente bene, ci stiamo avviando alla conclusione non ci rimane adesso che ascoltare l'intervento della nostra amica Maria Grazia Bonomo presidente dell'associazione Mamme Sant'Agatesi e come vi dicevo prima loro come associazione si sono già lesi all'inizio dell'anno organizzatrici di diversi eventi, di alcuni eventi qua a Sant'Agata uno di questi fu proprio la partecipazione locale della partecipazione alla manifestazione se non ora, quando, anzi colgo l'occasione per dire che domani a Piazza del Popo ti ho sciupato la calazza, vabbè ho anticipato un attimo la battuta a Maria Grazia però vabbè insomma penso che un po' tutti quanti noi l'abbiamo ascoltato per televisione però insomma domani c'è una mobilitazione nazionale, a livello nazionale a Roma ci sarà un incontro e un raduno soprattutto di donne poi ovviamente parteciperanno anche i maschietti e quindi è importante e fondamentale che questo cammino preso dalle donne e già evidenziato prima dalla dottoressa dall'avvocato Marese e dalla dottoressa Costantino è importante che stia continuando a livello locale per quanto ci riguarda anche con questa iniziativa a livello nazionale con quella che sarà un'iniziativa che credo, spero e mi auguro avrà successo domani proprio con questa successiva nuova edizione di Se non ora, quando benissimo, passo senz'altro la parola all'amica Maria Grazia Buonoro, prego io volevo dire che praticamente noi siamo solidari a due tipi di manifestazione una è stata il 25 novembre ed è la giornata mondiale per l'eliminazione delle violenze sulle donne importantissima perché a livello internazionale e l'altra siamo solidari domani con il comitato promotore apartitico se non ora quanto, che domani con la Guidi, che è la promotrice di questo comitato porta in piazza un nuovo slogan che si chiama Se non le donne chi? questo per promuovere le donne, in questo problema, dato che abbiamo una situazione critica loro si propongono come risoluzione, quindi portare la democrazia civile quindi la donna a 50% in parità con quelle che è l'uomo i miei colleghi qui di convegno hanno anticipato molti dei discorsi che volevo affrontare uno è quello che anche se la legislazione è cambiata nel corso degli ultimi 20 anni si parte dal 75 quando appunto è stato abrogato il discorso dell'uomo che poteva fare di tutto la donna anche ucciderla e non era penalmente perseguita anche un altro aspetto importante è quello della cultura purtroppo la società in cui viviamo è una società fatta dagli uomini e per gli uomini perché la donna finora è sempre stata messa in disparte il suo ruolo principale è quello di fare la donna di casa, di curare i figli, il marito le attività di genitori anziani, le attività extradomestiche eccetera però purtroppo non portando un reddito a casa, non portando prevalentemente soldi viene considerata minore, spesso i lavori che svolge sono posti su una scala sociale molto bassa il ruolo della donna è fondamentale per il cambiamento e questo lo dobbiamo capire lo dimostrano anche questi tipi di attività che vengono svolte domani quelle di cui abbiamo parlato fino adesso e che c'è anche la nostra collega della CISL Carla ci ha sottolineato il problema fondamentale parte già dalla prima educazione, dall'educazione infantile perché spesso le bambine vengono spinte a diminuire il loro spirito di iniziativa e rivolgersi in più verso il ruolo di madre e di moglie soprattutto lo vediamo, sono una dimostrazione i giocattoli che vengono spesso dati alle bambine le cucinine, la carrozzina, le bambolette mentre gli uomini cosa si regalano? tutte quelle attività professionali tipo il faligname proprio perché la donna deve rimanere nel suo ruolo mentre l'uomo deve avere la possibilità di vedere oltre e quante volte noi mamme ci preoccupiamo anche così parlando tra di noi diciamo io ho due figli maschi, chissà che cosa faranno mentre se hanno le figlie femmine, le città non devono fare le mamme e quindi questo questo è un problema, è un traguardo matrimoniale visto ancora e considerato ancora come oggi la cosa più importante per una donna invece in realtà non è questo purtroppo la donna nei momenti in cui ancora oggi nonostante tutte le leggi, nonostante tutte e soprattutto nel meridione la donna nei momenti in cui si sposa deve togliere tutti i suoi interessi noi veramente siamo un caso forse raro che continuiamo a fare quello che ci piace, quello che ci interessa però purtroppo nascono i figli e quindi è più difficile per la donna sottrassi quelli doveri con gli ugali che con il matrimonio comporta l'uomo invece è proteso più verso un traguardo professionale che è prioritario per lui esattamente come lo è quello matrimoniale per la donna e non lo sente affatto un contrasto con il suo ruolo di padre e di marito infatti nei momenti in cui ha altro da fare per problemi vari, per problemi lavorativi e fuori di casa lui sta bello tranquillo, dice tanto a casa c'è mia moglie e si occupa dei bambini e la donna invece è costretta a rimanere a casa e in qualche modo sviluppa una capacità di adattamento a questa situazione al suo ruolo e perde spesso la voglia, l'idea di proporre le proprie opinioni e di esporsi anche in certo senso alla parità con il marito che dicevamo prima cioè a livello, penso soprattutto nella nostra cultura meridionale è difficile che venga fuori la personalità della donna e questo automaticamente comporta il concetto che la donna è meno intelligente dell'uomo e quindi sicuramente messa in secondo piano la parità dei sessi questo purtroppo anche se si pensa molte volte che è superato in realtà non esiste perché si parla ancora molto della violenza di genere femminile oggi in Italia ogni due giorni muore una donna per violenza soprattutto avuta in casa soprattutto perché è di tipo passionale e questo naturalmente è un problema della nostra società la violenza va combattuta sia per quanto riguarda le donne e stasera sono contenta che ci sono molti uomini sia per quanto riguarda gli uomini è importante capire che la donna non deve avere solo un ruolo di donna e quindi di moglie, madre e figlia ma bisogna dare la possibilità di sviluppare i propri interessi di creare, di cercare un proprio lavoro questo non vuol dire che tutte le donne che sono casalinghe sono frustate per carità perché sono delle scelte consapevoli nel momento in cui uno decide di sposarsi vuol dire che comunque ha come priorità l'educazione dei figli che penso che è la cosa più fondamentale per le casalinghe la possibilità di lavorare però sicuramente li farebbe sentire molto più gratificate sia perché porterebbero l'economia nella famiglia quindi perché gli sarebbe data più la possibilità di partecipare e quindi di fare più uscite di realizzare se stessi e quindi automaticamente di questo ne gioverebbero i figli perché avere una mamma frustata sicuramente non può agevolarli che cosa? certo perché prima di tutto bisogna capire che è la qualità cioè se un figlio si sta 24 ore magari si è frustati sicuramente il figlio ne trova più agevolamento non potendo starci due ore ma starci serenamente la nostra associazione si pone come obiettivo principale la parità dei sessi attraverso un innalzamento della cultura sia con proposte triatrali che laboratori e altro soprattutto si pone come obiettivo principale la cooperazione che la ricrediamo alla base dello sviluppo economico futuro del nostro paese tutto questo è importante anche se non può sembrare da parte nostra svilupperà nei nostri figli qualcosa di nuovo una visione diversa della vita è un modo diverso di concepire il ruolo della donna è da qui secondo noi che si deve partire e perché solo loro è il futuro bisognerà degli strumenti in più se non altro per smuovere le nostre coscienze e ampliare le loro noi come associazione ce la mettiamo tutta ma naturalmente abbiamo bisogno di voi e del vostro aiuto a breve pubblicheremo il calendario con tutte le nuove manifestazioni e le nuove attività quest'anno spero che partecipiate più numerose rispetto all'anno scorso anche se l'anno scorso abbiamo avuto molto successo a mio avviso a mio avviso delle mie colleghe e se semplicemente faremo anche degli incontri con le mamme anche semplicemente per fare le chiacchiere per esprimere le nostre opinioni in modo che anche noi abbiamo un piccolo spazio dato che qui a Sant'Agata sono solo club maschili non ci sono luoghi, posti dove le donne si possano incontrare e non negano anche la difficoltà di trovare un luogo perché noi come associazione ci appoggiamo alla Proloco grazie a Gerardo per poter svolgere le nostre attività vi ringrazio per la partecipazione io non vi dilungo oltre perché credo che sia stata abbastanza esaudiente vi ringrazio grazie a Maria grazie scusate c'è un po' di parole è stata sì sì ti apprezziamo ti apprezziamo anche per questo mi rendo conto che è difficile parlare per l'ultimo perché davvero diventa poi difficile trovare argomentazioni e parole quando chi ti ha preceduto sono delle persone preparate e brave simpatiche e belle come quelle che in effetti hanno preceduto il tuo intervento però va bene uguale praticamente abbiamo concluso a me non resta che ringraziarvi ancora una volta per la presenza anche se man mano è andata un po' scemata insomma ma è normale vista l'ora e visto pure i giorni e sabato quindi ognuno poi prende un po' del diciamo altre strade io in conclusione voglio dire soltanto due parole proprio a conclusione voglio ringraziare ancora una volta l'avvocato Marese per avere dato per avere stimolato me e noi a questa bella iniziativa che sono certo ci farà uscire chi già è andato via ma chi è ancora qua ci farà andare via da qua questa sera sicuramente più ricchi se non altro di nozioni di contenuti di abbiamo parlato di prevenzione medica abbiamo parlato di lavoro di di parità di di tutto quindi io non posso che augurarmi eh che quelli che sono gli intendi poi che abbiamo già dichiarato e cioè che ci rivedremo ehm spesso sicuramente eh anzi eh chiedo scusa ma apro e chiudo subito una parentesi l'augurio che abbiamo fatto prima alla dottoressa Gabriella Cicerone e che poi abbiamo rinnovato all'avvocato eh all'avvocato Marese e lo dobbiamo fare pure eh alla nostra cara amica Maria Grazia Bonomo perché per chi non lo sapesse insomma un un caro augurio pure pure a lei e eh è un po' in tono minore perché un po' di gente è andata via ma sicuramente aveva lo stesso eh sentimento io vi voglio lasciare visto il il periodo del clima natalizio con veramente con un carissimo augurio eh di cuore veramente da parte di tutte di tutte le partecipanti a questo convegno da parte mia personale un caro augurio a voi alle vostre famiglie per qualche la prossima festività natalizia voglio giusto ricordare approfitto un attimo della vostra pazienza della vostra abbondiamo parlavamo prima della pazienza delle donne ma pure gli uomini dobbiamo dire che sono sono bravi profitto giusto per dire voglio sì se insomma un bravo un bravo voglio soltanto ricordare per chi non lo sapesse che giovedì mercoledì prossimo 14 a Castelluccio dei Sauri il nostro caro amico Don Michele Falcone è stato parroco qua da noi per oltre 20 anni il quale ci ha tenuto sono stato io di sera a casa sua anzi mi aveva detto di portare il suo saluto affettuoso alla platea al pubblico e alle persone che nei conveni diciamo al convegno e dicevo il 13 del 14 a Castelluccio dei Sauri ci sarà la presentazione di un suo nuovo libro per cui insomma per quello che è l'affetto che come paese abbiamo sempre dimostrato nei confronti di Don Michele Falcone mi è sembrato giusto dirlo un'altra cosa voglio dire uscendo fuori all'ingresso per chi vuole c'è la possibilità di poter degustare c'è una degustazione gratuita di panettoni artigianali di vino doc locale di un'azienda azienda gallulo di Ascoli Satriano che questa sera ci ha voluto buona sua onorare anche lui della sua presenza della loro presenza e io vi voglio lasciare come dire tutti hanno fatto degli interventi molto belli vi voglio lasciare con un saluto particolare con un augurio veramente affettuoso tutti quanti per quella che è stata questa bella presenza questa sera certo siamo rimasti un po' meno adesso però insomma all'inizio eravamo era quasi pieno il teatro e questo ci conforta per le prossime iniziative vi voglio lasciare con un con un con un detto con un proverbio visto che siamo in tema natalizia in tema natalizia con un proverbio che ho fatto mio pubblicandolo sul nuovo numero della rivista il Sant'Agatese che mi onoro di produrre qua a Sant'Agata e dicevo ve lo voglio leggere e ve lo voglio lo voglio fare mio e vorrei farlo anche vostro ve lo voglio dedicare e con questo chiaramente concludo e vi ringrazio veramente di cuore il detto la frase è questa qua se c'è luce nella tua anima ci sarà ci sarà bellezza nella tua persona se c'è bellezza nella tua persona ci sarà bellezza nella tua casa se c'è bellezza nella tua casa ci sarà ordine nel tuo paese se c'è ordine nel tuo paese ci sarà pace sulla terra un augurio di pace a tutti quanti grazie e buona serata ancora a tutti quanti grazie grazie